Guarda, non hai idea, non hai idea, c'è praticamente questo qui che si presenta ovunque vada, mi sta stalkerizzando, cioè io ti prego, se per caso dovesse venire qua, me lo devi cacciare via. Paolo, non ti preoccupare. No, perché sono preoccupato. Non ti preoccupare. Sei sicuro? Ci perso io, andiamo a girare, dai. Andiamo, perché guarda, è allucinante questa storia qua. Non ti preoccupare. Quindi, cos'è che ci fai sentire? Piacerebbe una roba in si bemolle se ce l'avessi. Ma ti piace questa? Mi piace la gente che quando saluta, ti stringe la mano, sorride e non sputa. Mi piace mia figlia che è timida e tace, mi piace mio figlio e tutta la sua specie, che quando si incazza, qui non c'è più pace, neanche se gli dici, c'è ragione te. Mi piace dormire, adoro i divani. Mi piace un po' meno menare le mani. Mi piace restare attaccato al presente. Mi piace nascondermi tra quella gente che parla, che parla, che parla, senza dire niente, saltar fuori all'improvviso e gridare E non ti accorgi che sono qui, nudo, sì, sperando tu mi veda così, romantico, in cerca dei tuoi sì. No, non importa se ti chiedi perché tocca proprio a te. Vanno da infermiera, proprio di sera, tu non lo sai, ma capirai che se non mi vorrei sono statato mai. Mi piace parlare da solo d'estate, mi piace archiviare le cose passate. Avevo famiglia, ora sono per strada, che forse è un po' meglio che stare alla Breda. Anche se le mie scarpe non sono di Prada, ma sono le mie e me fa mali pelle. Mi piace parlare a qualcuno che ascolta. Magari per finta, ma almeno una volta. Mi guarda negli occhi anche se non capisce. Io è straniero, un barbone che attraversa le strisce. Poi il suo cane mi guarda e piscia mentre annuisce. Io rimango basito mentre arrivi te. Ero, ti accorgi che sono qui, nudo, sì, sperando tu mi veda così, romantico, facendo un gran bacca. Non importa se ti chiedi perché tocca proprio a te. Var dentro e fuori dalla galera, senza i baglioni, nella balera, dove ti ho visto proprio quella sera. E' una pregiudicata questa qua. O no? Proprio quella sera. Ah, ecco. Nella balera. Dove? Nella galera. Ah! Cioè fammi capire, questa qui era in prigione e poi va in balera, ma è un fatto di rima, era con era? O è una tematica propria a cui temi? C'è il solo di piano. Cioè nel senso, poi la galera vuol dire anche la nave. C'è il solo di piano. Ho capito. C'è il solo di piano jazz. Vabbè, sai jazz. Non è che parte il solo? Ah, è questo qui, scusa. Nella galera. Dove? Nella balera. E dai. I protagonisti qui sono i battiti di Mami. Li senti? Finito qui? O riparte? Però mi piace. E' stoppilt E' stoppilt Grazie.